Ciao a tutti ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale originale, cliccate anche sulla campanella, date un'occhiata anche agli altri contenuti e ora procediamo col doppiaggio. Meno male che nessuno mi ha visto altrimenti sarei nei guai grossi. Meno male che nessuno mi ha visto uccidere il testimone, altrimenti sarei nei guai grossi. Ragazzi, so chi è l'impostore. Oh maddai, stavo finendo la missione in reattore. Non sono io ragazzi, io ero in infermeria e già lo può confermare. Cosa? Non è vero. Dov'è il corpo? Dov'è il corpo? Ragazzi, vi prego, non abbiamo molto tempo. Verde, cos'è successo? Ah, ecco, Rosso è l'omicida, ha ucciso Arancione di fronte ai miei occhi. Rosso è vero? No, non sono stato io. Sai cosa? Per me è innocente. Aspetta, cosa? No, l'ha fatto di fronte a me! Sai cosa, verde? Oggi sei stato molto aggressivo. Se non ti conoscessi bene, direi che sei molto sospetto. Ma siete seri? Mi state realmente accusando? Hai fatto le tasche. Ma cosa c'entra? Dici che cosa hai fatto, come la spazzatura, lo scanner in infermeria o persino i fili. Io... Io le ho finite da un pezzo. Ormai è chiaro chi è l'impostore. Uccidetelo, uccidetelo! Ragazzi, non fatelo, non sono io l'impostore. Chi vota per il verde dica io, 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 io. Gettatelo fuori. Sigh. Subscribe for more mix.